buongiorno allora mio figlio mi ha chiesto una ricetta leggera con il salmone per condire la pasta allora ho pensato di allora ho messo in una padellina cucchiaino d'olio un cucchiaino di burro adesso metterò un bel cucchiaio di ricotta e farò stemperare e aggiungerò anche un goccino di latte allora ho aggiunto la ricotta ho aggiunto il coccino di latte e adesso con un cucchiaio lungo cerco di stemperare e faccio sciogliere per bene la ricotta poi aggiungerò il salmone aspettate che sale in contrario aspettate aggiungerò il salmone però non lo farò cuocere lo taglierò a pezzettini e lo unirò diciamo alla ricotta e agli altri latticini che sono qui in questa padella non aggiungerò il sale perché il salmone è già saporito però aggiungerò un bel un bel pizzico di pepe generalmente si condisce la pasta con panna e salmone però è un pochino più pesante invece utilizzando la ricotta e se riuscite a trovare anche la ricotta light è meglio il piatto sarà gustoso ma non eccessivamente calorico ecco qua il sughetto è pronto perché ho aggiunto il salmone qui sto cuocendo le trofie scusatemi il vapore non mi fa ecco qua vedete sto cuocendo le trofie la metà cottura le scolerò che li metterò direttamente nel sugo ho scolato le trofie e adesso le vado ad aggiungere al sughetto che devono cuocere altri 23 minuti adesso aggiungere un po d'acqua perché se non si asciuga la ricotta guardate che bella sta facendo proprio una bella cremina dovete scusarmi se non sono molto brava nella descrizione oppure sono un balbetto un poco piano piano imparerò